Buongiorno a tutti, eccoci con un classico, un super classico, il nostro Brasato Albarolo. Finalmente ritorna il fresco, la stagione ideale per questo meraviglioso Brasato. Incredibilmente al suono. Quasi lo stesso suono dello sciabordio di una nave. Perfetto. Qua appena è arrivata la nostra chianina, deve solo essere schiacciata. Pronto. Questa piccola finestra con la nostra costoletta sempre meravigliosa e la fracosta appena è arrivata. Iniziamo subito col fegato, la trippa, gli impanati, le cotolette di vitellino, la chianina, la costoletta, la fracosta, l'arista e gli agrumi, le alette di pollo marinati, i nostri hamburger in polpettone, zucchine e provola e cotte provola. Il nostro Brasato con il pomodoro rosso, noi passiamo allo spirino, la salsiccia toscana, le cervellatine, polpette, polpettine, salsiccia a punta di coltello, straccetti, bocconcini col provolone del monaco. E voilà, eccolo qua, il soffritto, tempo perfetto del Brasato Albarolo. È soffritto. Signori, lo spicchio è completo. Questo è il nostro banco stamattina. Come sempre, vi aspettiamo. Ma, secondo me, si sta compiacendo un po' troppo. Questo mira al Nobel per la bistecca. Ancora buona giornata, a domani.